Ci sono domande che un rasta si sente fare per tutta la vita. No, no, non si lavano, non si lavano assolutamente, la gente va in giro con la merda nei capelli da milioni e milioni di anni. E questo va benissimo a tutti e un sacco di gente continua a farseli, eh? Noi ce li facciamo solo per non lavarci, fidati. No, il sapone non passa assolutamente attraverso i fili intracciati, ne sono dimostrazioni vestiti che infatti dobbiamo buttare via dopo che si sono sporcati, visto che, no, il sapone non passa attraverso i fili intracciati. Figuriamoci se sono capelli intracciati, che molto spesso sono più fini di fili che voi usate per cucire. Che sporcaccioni questi rasta! Tutti hanno quel cugino, quel fratello, quel cugino dell'amico del fratello, insomma, qualcuno nella propria vita che aveva dread? Ah, scusate, si chiamano rasta, rasta, non dread. No, 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 no. I rasta sono le persone, i dread sono i capelli. No, sinceramente anche io a volte li chiamo rasta. Colpa della gente. Sì, i rasta si drogano, tutti, senza eccezioni. È evidente il modo in cui l'avere i capelli intracciati comporta necessariamente come conseguenza il fatto che tu debba fumare qualcosa o iniettartelo in vena. No, non esistono assolutamente dei parrucchieri che fanno questo. Tu devi andare per forza dall'amico al parco e farteli fare con gel strani e cotonando i capelli. Fanno davvero così. È doloroso farli? Beh, qui non sono ironico. Io ho pianto. No, non fa assolutamente male farli, non c'è assolutamente nessuno che soffre e sentire i capelli che tirano non ha assolutamente fastidio. Non è come fare minuscole treccine tirandoti i capelli uno per uno ma usando un uncinetto da 0.6 mm. Questo, questo piccolissimo oggettino fuori fuoco è questo che serve per fare questi capelli. Ah no, scherzavo, ti vengono perché continuano a lavarti e quindi a un certo punto diventi Tarzan. Sì. Per favore, quando vedete un rasta per strada non urlate Bob Marley, ok? Ah, sì, danno fastidio, pungono, danno prurito, tengono un sacco caldo alla testa. Per questo è in Scandinavia che è pieno di gente rasta perché tiene caldo alla testa. Esattamente per quello. Fortuna che ci sono paesi come la Norvegia che portano avanti la cultura rasta. Sì, tutti i rasta sono rastafariani, assolutamente. È una regola, è come la legge di Archivete. Vale in ogni caso all'interno del nostro sistema. Infatti, la gente nata prima degli anni trenta e che portava i Dread era già rastafariana. No, sul serio, non conosco nessun rastafariano ma conosco un sacco di raste.